...che abbraccia tutta la scala degli esseri viventi, si avvare di questi preziosi e fedeli amici dell'uomo e della loro immagine per significare i doni della salvezza. Invochiamo dunque la benedizione di Dio per l'intercessione di Sant'Antonio Abate sopra queste creature, rendendo grazie al Creatore che le ha poste a nostro servizio, che diamo di poter camminare sempre nella sua legge e di non venire mai meno alla nostra dignità umana e cristiana. Padre nostro, che sei nel Cielo sia santo e caro il tuo nome, venga il tuo legno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci rimettiamo in alimentazione, ma liberaci dal male. O Dio che hai disposto con meravigliosa sapienza e all'uomo fatto a tua immagine hai conferito il dominio su tutte le creature, stendi la tua mano perché questi animali ci siano venuto e sollievo nelle nostre necessità e fa che in un armonioso rapporto con la creazione impariamo a servire e amare te sopra ogni cosa. Per Cristo nostro Signore. Amo. Signore, ravviva nel segno di quest'acqua benedetta l'adesione a Cristo che è primizia della creazione nuova e fonte di ogni benedizione. Amo. Dio che ha creato gli animali della terra con l'aiuto e sostegno della nostra vita terrena ci protegga e ci custodisca sempre e per indossessione di Sant'Antonio scenda su tutti la benedizione e di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito. Amo. Adesso passeremo di comprimare l'animale sul lato. Chi ha? L'animale sul lato. L'animale sul lato. L'animale sul lato. L'uomo di tartarughe che ha con la vacanza, con la fila. Allora. Il comitato feste mi invieta di offrirmi una camera. Domenico. E' bello come stanno lavorando. Adesso passeremo ai cavalli. E' trasportato. E' fa spocciare. Gino. Se sei sempre lì. Il ragazzo sta qua. Passeremo ai cavalli. Ma sta per qua. Ciao. Ciao. Oh. E' dei cavalli. Gino. E' grande cavalli. non ti muovo grazie aspetta belli belli proprio il comitato feste sono in grande ferriano guarda la scelta del cavallo dalla macchina il comitato feste ha l'onore di premiare Pierluigi Pellegrini che c'è un bel puro sangue bravo grazie tutto per te aspetta l'avvicinario è caldo auguri a tutti gli animali e i presenti adesso potremmo andare a fare il nostro dovere l'arte culinaria adesso si passa all'arte culinaria